Buongiorno a tutti voi. Le 8.31 di mercoledì 20 maggio 2015, 35esima settimana di Buongiorno con noi, ne avremo ancora altre tre dopo questa e poi anche Buongiorno con noi andrà, si concederà un po' di relax, un po' di vacanze, soprattutto ce le concederemo un po' noi a turno della redazione, il motivo è semplicemente anche questo. Avete già visto? No, prima di cambiare inquadratura Matteo, avete già visto questa bella figura qui su questo monitor che sta in regia dove stamani agisce Matteo Bedini? Adesso allarghiamo, è con noi questa mattina graditissimo ospite Nadia Centoni. Buongiorno Nadia, grazie di essere con noi, nazionale italiano di pallavolo, ultima stagione al Galatasaray Sport, aspetta eh, vediamo, Sport Club, no come si chiama? Sport Club, che sarebbe per club, sarebbe il nostro club. Galatasaray basta. Galatasaray è più semplice, è più semplice, vabbè Nadia Centoni credo non ha bisogno di moltissime presentazioni, è sicuramente la migliore espressione di gran lunga della nostra pallavolo, della pallavolo lucchese degli ultimi anni, forse di sempre, mi permetto di dire, a livello femminile, giocatrice che ha due olimpiadi, no, tanto per andare così nel dettaglio, insomma tante stagioni anche in Francia, tante presenze con la nazionale dove sei tornata. Prima però ti chiedo intanto come va, so che questi giorni sei in vacanza, no? Finalmente un po' di riposo, sei al mare. Sono al mare, è finita la stagione, è una lunga stagione perché insomma l'anno scorso in Francia, poi mondiali, poi direttamente a Istanbul con questo nuovo club, sono rientrata, ho fatto insomma una buona annata anche in Turchia, adesso un po' di riposo e poi vediamo. Ora in 20 secondi mi hai già dato la traccia, no, mi hai dato la traccia di tutto quello di cui parleremo questa mattina, no, io dico una cosa, tanto stamani ti abbiamo fatto, non so se sei mattiniera di solito, i sportivi dovrebbero essere mattiniera. Sì, sì, molto molto mattiniera. Sei mattiniera, ecco, sei mattiniera quindi non ti abbiamo fatto fare una levataccia, però a compenso diciamo visto che sei al mare, sei proprio a Inversilia, stamani il tempo è un po' così così, quindi non ti creiamo neanche, a parte che alle 9 e mezzo ti liberiamo. Quindi va bene, senti, la nostra come sai è una rassegna stampa, quindi andiamo anche un po' a sfogliare i giornali, ne dico la questa mattina, quello che di bello e talvolta purtroppo di meno bello c'è anche sui nostri quotidiani. Partiamo proprio dalla Nazione di Lucca, un anno di polemiche, perché tu vabbè, tu ormai sei via da Lucca, torni perché insomma sei di qui, tu hai sono di qui, però c'è questo nuovo ospedale che insomma non è nato sotto le migliori stelle. Prima hai visto, prima di noi c'era l'oroscopo, non è nato proprio sotto le migliori. Un anno di polemiche, l'ospedale San Luca spegne la prima candelina, l'ASL è soddisfatta, l'ASL, gli utenti non lo so, ma i sindacati vanno all'attacco e la strada non è ancora pronta. Insomma, questo anno non so se ne hai sentito parlare dai tuoi così. Qualche volta, qualche volta ne ho sentito parlare. Ora io, l'ospedale, per fortuna c'è stato tanto bisogno, però insomma. No, no, ma c'è stato i problemi purtroppo, non è nato diciamo sotto la migliore stella. Poi tasse comunali cambia tutto, c'è l'ok, Lucca Holding Servizi avrà tre sedi per le riscossioni. E poi, pensate, perché questi non mancano mai, i ladri azzerano proprio, tra virgolette, la cooperativa. Furto da 25 mila euro alla mongolfiere. Visto che parliamo di una cooperativa, credo che sia un danno abbastanza importante. L'appello, rubati gli attrezzi da lavoro, aiutateci. Questo è brutto, eh Nadia? Sì, abbastanza, perché insomma, materiale da lavoro e poi una cooperativa sono cose che preoccupano parecchio, penso. No, mi viene l'idea che... Che preoccupano e che fanno male, no? Che fanno male all'economia, alle persone, a tutto. Mi viene l'idea che non ci sono più i Robin Hood oggi, che rubano, come faceva lui, che rubava i poveri per dare a ricchi. Qui la gente ormai ruba, rubano i poveri. In questo caso, una cooperativa, capirete bene che, coi tempi che corrono, già l'idea di mettere su una cooperativa, di cercare di andare avanti. Poi c'è qui, su e giù dalla torre, dell'amico Remo Santini, che tutte le mattine butta giù qualcuno dalla torre o viceversa, insomma. Il su, in questo caso, mentre il giù è per le auto in sosta nella sortita, perché poi con te voglio parlare anche come stai trovando il traffico su Lucca, visto che vai e vieni dalla Francia, dalla Turchia. Il su è per una, che speriamo un giorno di avere qui come te, veramente che possa arrivare a grandi livelli. Sono queste due ragazzine di bagni di Lucca, due tenniste, Jessica e Tatiana Pieri. Il su è per Jessica Pieri. Pensate, scrive Santini, erano più di 20 anni, dal 1994, che un'italiana non arrivava in finale agli internazionali juniores di Santa Croce sull'Arno, secondo torneo giovanile come importanza. Jessica Pieri ci è arrivata, ha dovuto cedere ad una russa, ma l'impresa è stata grande lo stesso. Dobbiamo dire che, eh? Che dici? Questa è una bella notizia, accidenti. Sì, poi Jessica, insomma, ha un talento purissimo. Purtroppo fisicamente, insomma, non è Serena Williams o queste giocatrici che vediamo, però ti garantisco che come tocco di palla, come braccio, no? Come si diceva, è veramente... Va bene, non avrei... Scusa di interrompo. A difesa delle nostre giocatrici italiane non avremo una Serena Williams, però abbiamo dei grandi nomi che fisicamente magari non sembravano fortissime, però sono arrivati Schiavone, Errani, Vinci, Pernetta e stanno facendo tanto per il tennis italiano e quindi, voglio dire, la tecnica, la scuola italiana è sicuramente una grande scuola. Conta ancora. Speriamo, perché poi Jessica è quella più grande che poi ha 18 anni e poi sotto di lei c'è questa, la più piccola, Tatiana, che invece ha neppure 16 anni, che ha vinto il campionato italiano under 16 quando ne aveva 14. Sono due ragazzine che il papà Ivano, che è maestro di tennis, segue e ti garantisco che poi per arrivare a certi livelli bisogna fare sacrificio, no? Sicuramente. Ne sai qualcosa, no? Sicuramente. Intanto gli facciamo un grande bocca al lufo allora tutti e due, perché sono piccolini rispetto a me, quindi la strada è ancora lunga, sono da farne. È stata dura anche per te, Nadia, arrivare? È stata dura. Sicuramente la vita di uno sportivo, all'apparenza, sembra... Tutto rosa e fiori. Tutto rosa, perché magari quando se ne parla, quando ne parliamo in televisione, spesso si parla delle vittorie, si parla delle belle carriere, di quello che si fa e quindi sembra tutto facile, però sicuramente la passione è grande, però è una vita un po' difficile, si va via di casa presto, si sta lontana dai propri affetti. Anche dei mesi delle volte, io ho tanti anni che vivo all'estero e questo vuol dire che sto lontana dalla mia famiglia, dal mio marito, ci sentiamo solo per telefono, delle volte non è così scontato. Quella secondo me è la cosa che magari pesa un pochino di più. Il resto poi, diciamo che piano piano, forse con gli anni ti ci abitui alle valigie, ai traslochi, alla fatica che la senti sempre di più, ogni anno di più, però sicuramente non è tutto rosa e fiori come magari traspare dalla televisione, dalle interviste. Però il richiamo della foresta, come scriveva Jack London, in zanna bianca, cioè in questo caso alla fine un po' si sente, no? Si sente come, io quest'anno, ma sempre, sempre, quando arrivo a fine campionato, che è la fine, sento sempre bisogno appena finisce e dici ma che fai scappi, non rimani un altro po', ma io veramente vorrei andare a casa, vorrei andare a Luca a respirare un po' di aria che c'è a casa, quindi volentierissimo. Tanti sacrifici per chi fa uno sport di squadra, come nel tuo caso, la palla a volo, può essere il basket, il calcio, ma nel tennis, volendo proprio completare il discorso, quelle che possono essere le prospettive di queste due ragazzine, che ci auguriamo abbiano queste prospettive, è ancora più accentuato secondo me, perché lì veramente... Sei sola. A parte che sei sola, è sola o solo, e poi vai veramente a giocare, te pensa se uno veramente entra nel circuito, no? Speriamo che Jessica e Tatiana ce la facciano. Entri nel circuito, oggi sei in Oceania, domani sei nelle Americhe, domani l'altro sei in Asia, e quindi diventa veramente... E qualcuno sostiene che molti dei nostri talenti tennistici precoci, che magari da giovani riescono anche ad emergere, hanno vinto anche dei tornei, poi non riescano a completare la loro carriera perché dicono, noi italiani siamo un po' troppo mammoni, no? Oh no! Non è il tuo caso, no? Non so se è una leggenda, qualcuno lo sosteneva a tempo fa, credo che sia una leggenda metropolitana. Penso che sia una leggenda. No, no, non è che siamo mammoni. No, io non credo proprio. Pichino, no? Magari sono altri motivi, però insomma dai, abbiamo tanti atleti forti, tennis. Per fortuna è cambiato, sì, è cambiato. Sì, sì, tutti di sport. Fra poco vediamo anche qualche immagine di Nadia, no? E cominciamo a parlare un po' anche della tua carriera. Cominciata, possiamo dire, tanti anni fa, all'Olympic Lucca. Che oggi sarebbe, no, non c'è più l'Olympic. No, non c'è più l'Olympic. Oggi abbiamo altre realtà. Nel 94-96 addirittura è cominciato. Ma come cominciò? Dalle scuole, come cominciò? Dalle scuole, sì. La passione per la pallavolo di Nadia Centoni, come cominciò? Differentemente da quello che sono le ragazze della mia età, se chiedi magari a altre ragazze della mia età, ti dicono tutti, ah, con i cartoni, c'era Mila e Sciro. Ah, è vero, sì, sì. Tantissimi, dico, ah, guarda, i cartoni sono appassionati. Io sono uno di quelle che fa eccezione. Perché io vengo dall'atletica, in realtà. Facevo atletica a scuola e sembrava quasi che avessi, non ti dico un futuro, perché sarebbe dei paroloni, no? Nell'alto? No, corsa, ostacoli, io ero più corsa. Ah, fisico non ti mancava, quindi. E però questo, in realtà, fu veramente il motivo, perché ero da sola e parlavamo del tennis per portare il paragone. Quando ho iniziato magari ad andare un pochino meglio, ero da sola, non mi piaceva più, non mi appassionava così tanto, come invece al tempo stesso ogni tanto andavo a giocare a pallavolo con i miei compagni di classe. Eh, sì, è vero, è vero. E quindi ho trovato nello sport di squadra, nello spirito di squadra, ho trovato un po' di più quello che, per quell'età, perché a 13-14 anni, non pensi mai, arriverò o voglio fare la pallavolista, voglio avere successo assolutamente. Giocavo proprio per divertirmi, per passare il tempo, per far distrarmi dalla scuola stessa. E quindi, poi devo dire che ho avuto la fortuna che giocando così, per divertirmi con i miei compagni di classe, tutto quanto, qualcuno mi ha vista, ha detto, ma però, salta, salta. Questa Nadia Centoni non è male. Allora, vediamo anche la prima pagina del Tirreno di Lucca, perché stamani sembra fatta apposta, ma pensate che poche ore fa, qui a Lucca, inizialmente raccontano che non l'hanno neanche riconosciuto, perché, pensate un po', l'ex sprinter Ben Johnson, ricorderete la vicenda Olimpiadi del 1988, fu una cosa abbastanza clamorosa, no? Lui vinse la medaglia d'oro, subito dopo venne, forse primo caso veramente clamoroso di doping a livello mondiale, poi è venuto fuori che dopo ce ne sono stati tanti altri, anche quelli che, vabbè. L'ex sprinter Ben Johnson ricoverato al San Luca, notte al pronto soccorso per la star dei giochi di Seul, appunto, dell'88, che fu poi squalificato per doping. Ora allena una velocista moldava che si prepara al campo Martini alle tagliate. Ben Johnson è stato colpito da malore ed è stato sottoposto ad una serie di accertamenti in ospedale. Una volta di me, ha accettato volentieri di posare per foto, ricordo, con dipendenti e visitatori. Ecco, c'è questa foto, un po' scura, insomma, qualche chiletto in più ce l'ha anche lui e poi su Twitter mette le foto scattate in città sul profilo del velocista, immagini in Piazza del Giglio e Piazza San Michele, ma anche a Via Reggio. Diciamo che comunque ha fatto un po' di promozione, no? Eh, ci vuole. Alla città di Lucca. Ricordi la vicenda di Ben Johnson? Probabilmente eri piccolina all'epoca, sì. Ricordi poco, eh? Sì. Insomma, fu una vicenda, ti garantisco, che destò scalpore perché fu veramente il primo caso, no? Non era ancora caduto il muro di Berlino e non erano ancora caduti tanti tabù e tante cose. Fu il primo caso, forse si credeva ancora di più alle favole, no? Di quanto si creda oggi. Fu il primo caso veramente clamoroso. Poi ce ne sono stati tanti, ora mi viene in mente l'ultimo nell'atletica, quello del nostro marciatore Schvazzer, no? Sì. Però dopo ce ne sono stati tanti, ma quello fu veramente il primo. Poi vinci la medaglia d'oro nei 100 metri all'Olimpiadi, diciamo, è una delle gare simbolo. Sì. E poi vieni pizzicato. La medaglia d'oro andò a Carlluis. Vabbè. Viareggio, giro di vita sulle spiagge, Bagnini in servizio prima, regole più severe della capitaneria, sorveglianza al via alle 9 anziché alle 9.30, un'ora e mezzo in più di divieto, anche per pesca, surf, e il passaggio di barche. Più controlli sulle spiagge libere, e poi esami e visite low cost, si amplia l'offerta in Versilia. Andiamo a completare con la cronaca da Mediavalle Garfagnana. Lucart inaugura l'impianto di essiccazione, riempiega i gas di scarico nella scicatura. Al taglio del naso il governatore Rossi e l'amministratore delegato Pasquini. Noi, Matteo, su questo ti salto il primo servizio. Abbiamo anche un servizio su questa vicenda della Lucart. Prima però volevo chiedere, prima di lanciare il servizio a Nadia, la tua esperienza alle Olimpiadi. Ne hai fatte due, che esperienza è stata? Atene 2004 e Pechino 2008. Completamente diversa perché Atene, ero ovviamente più giovane perché sono tanti, hai quattro anni per uno sportivo di distanza tra una manifestazione e l'altra. Quindi tutto l'entusiasmo di una prima grande manifestazione, di un primo grande obiettivo. e sinceramente è stato veramente bellissimo, bellissimo, come dire, quasi uno shock perché quando arrivi ti trovi in mezzo a tutti questi atleti, a un livello alto, lo vedi da tutte le parti, la professionalità, perché lì sono tutti di sport. Quindi mentre prima ero abituata a europei o mondiali, però solo della pallavolo, e lì c'è tutto. E trovarsi a mangiare alla menza, e accanto c'hai, non so, Yuri Keki piuttosto che Diokovic, piuttosto che Medina Dal che passa. Ah, Diokovic era già alle Olimpiadi. Diokovic era alle Olimpiadi del 2008, però per dirti, questo è il clima che si vive a un'Olimpiade. C'è il meglio dello sport mondiale. Il meglio e ci sei a contatto. La meglio gioventù veramente dello sport mondiale. Ci sei a contatto sempre, 24 ore su 24. Poi dopo ci racconti le differenze tra Atene e Pechino, credo che siano differenze abissali da tanti punti di vista. Allora, Matteo, lanciamo questo servizio, poi quando torniamo andiamo in pubblicità, magari vediamo anche il sito della Gazzetta di Lucca che riporta una notizia che abbiamo già dato anche noi. Intanto il servizio sulla Lucart. Con un investimento di oltre 3 milioni di euro, Lucart ha realizzato a Castelnuovo Garfagnana il primo impianto di cogenerazione con ecorecupero integrato. L'obiettivo dichiarato è quello di abbassare del 18% la quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera dallo stabilimento cartario e di abbattere sensibilmente i consumi di metano. Alla presenza del presidente della regione Enrico Rossi, l'inaugurazione dell'impianto. Il sistema di asciugatura sostenibile ed eco-compatibile messo a punto da Lucart con la collaborazione di Valmet Spa, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie per le industrie della carta, utilizza l'energia termica dei gas caldi di scarico, evitando l'afflusso di gas metano e tradizionali bruciatori, con un conseguente miglioramento del rendimento complessivo dell'impianto. L'innovativa scelta di ecorecupero integrato ha richiesto oltre 25.000 ore di lavoro e l'utilizzo delle più moderne tecniche di progettazione. Questo è il servizio di Luigi Casentini, andiamo velocemente sul sito di Gazzetta di Lucca. Questa mattina la notizia d'apertura riguarda, diciamo, l'investitura, la promozione, la nomina via Piacentini, direttore generale di Carismi. Eccolo qua, la foto di Piacentini, appunto, che ha avuto questa... Beh sì, la possiamo chiamare anche una promozione, perché no, direttore generale di Carismi. Tra poco torniamo, Nadia, torniamo con Nadia Centoni, parliamo di queste Olimpiadi, 2004 Atene, 2008 Pechino, così diverse. Io su Pechino ti devo fare una domanda perché sono curioso, perché questa Cina, ma sempre un po' incuriosito, affascinato, la vede ancora un po' misteriosa nel suo modo di... Un continente, perché alla fine è un continente, un po' misterioso. A tra poco. 8.49, buongiorno con noi, di oggi, mercoledì 20 maggio, in compagnia di Nadia Centoni, la nostra campionessa di pallavolo. Ti piace essere chiamata campionessa? No. Eh? No, è così, è così comunque, dai. Mi chiamano gli altri, io... Posso dire ancora... Cioè, sì, del Galatasarai. Sì. Eh? Tu hai il contratto fino? No, il contratto per quest'anno, loro vogliono fortemente che resti, sono in fase di valutazione, è mercato per tutti. Se ne deve parlare, via, se ne deve parlare, mi sembra di capire. Senti, no, ti volevo chiedere di questa... Atene, hai detto, ci sia arrivata a queste prime Olimpiadi del 2004, insomma, sull'onda dell'entusiasmo, perché credo che, insomma, comunque Atene sia un paese... La Grecia, per tanti motivi, è abbastanza vicino al nostro, no? Sì, sì, infatti... Sai che c'è il proverbio che dice, Greci, italiani, stessa faccia, stessa razza. Non so se lo sapevi. No, non lo sapevo. Però mi viene il parallelismo adesso con Expo, che noi siamo arrivati precisi, precisi, con tutti i lavori di finitura, di ultimazione, e quindi... All'ultimo tuffo. All'ultimo tuffo, Atene è stato uguale, ecco. No, vedi che allora, italiani... Ci assomigliamo abbastanza. Grecia, italiani, stessa faccia, stessa razza. Ci assomigliamo abbastanza. E invece in Cina... In Cina erano pronti... Tutto un'altra storia. Tanto per te era la seconda Olimpiadi, quindi ci arrivavi già, diciamo... Sicuramente... D'atleta, insomma, più consolidata, più esperta. Poi il mio stato d'animo, sì, era sicuramente diverso. Poi venivo da un'estate, perché Atene l'ho fatta con un'annatore che era bonita, e Pechino l'ho fatta con un'altro allenatore che era Barbolini. A Tene si è arrivata che avevi giocato nel Pesaro. Sì, venivo dall'Italia. A Pechino avevo già fatto il mio primo anno in Francia. Pechino invece venivi dal Cina. Dalla Francia, quindi sicuramente era... Ero sicuramente più matura, più esperta, però con l'allenatore non ci conoscevamo così bene come conoscevo, ad esempio, Bonita. Quindi sicuramente l'ho vissuta in maniera diversa. Il mio stato d'animo era diverso. E la Cina era completamente diversa da quella che era Atene nel 2004. Lì erano pronti molto prima, le strutture avveneristiche, la Cina voleva veramente mettersi in mostra e far vedere tutto quello che può offrire, tutto quello che ha, tutto quello che può offrire. Ecco, una tua caratteristica sicuramente quando schiacci, che la metti giù, che metti questa palla a terra e poi dai sfogo a questa rabbia, no? Cosa c'è? C'è rabbia? C'è lo sfogo naturale di aver fatto un punto? Cosa c'è in quella... C'è tutto, c'è tutto. Ogni palla è il lavoro mio, di squadra. Magari c'è stata una... Guarda qua, c'è stata un'azione bella di difesa di tutta la squadra che ha partecipato. L'ultima palla me la danno a me, o l'ultima? Quello che siamo. Qui siamo a Cannes, l'anno scorso, quarti di finale di Champions League contro Vakif Bank, una delle più forti squadre in Europa, è sempre una squadra di Istanbul, fra l'altro, e ci giocavamo l'accesso alla Final Four in Champions League e per me... Diciamo che queste partite sono quelle partite, sono le partite da giocare, quindi come ti dicevo, ogni palla è l'ultima palla. Tra l'altro, grandi soddisfazioni, ti sei tolta anche con la Champions, si è arrivata con Cannes diverse volte alla Final Four, una volta addirittura in finale, purtroppo non sei riuscita a vincere. Siamo persa contro le squadre turche. Però si vede che la turchiera è un po' nel suo destino. È per quello che devo andare. Però sei stata eletta anche migliore giocatrice, quella che è la Champions della palla a volo, quindi anche in questo caso... Sì, sì, è come nel calcio. È come nel calcio, la massima espressione. Sì, le migliori squadre, le squadre che vincono il campionato giocano la Champions League, i loro campionati giocano la Champions League. Che c'è ne hai trovato nel 2008? Perché sembra stare l'idea di un paese misterioso, questa storia che avevano cessato tutte le attività industriali un paio di settimane prima per fare in modo che si vedesse il sole. C'è anche questa leggenda, che poi non credo sia poi tale. È come ti dicevo, un paese che vuole mettersi in mostra, che vuole mostrare che è al pari di Stati Uniti, Russia... Delle grandi potenze. Delle grandi potenze. E sicuramente in quel momento c'è riuscita, perché hanno mostrato una preparazione, un'organizzazione dei migliori livelli assoluti, proprio con strutture veramente... Sì, sì, avveniristiche, le ricordiamo. Moderne, funzionali, funzionanti, quindi... Anche se, però mi dicevi, se ti spostavi dal villaggio olimpico, la realtà poi non sempre era quella. La realtà non sempre era quella. Noi ci siamo andati a allenare per motivi nostri, anche in altri palazzetti, che erano fuori, diciamo, dal circolo olimpico. E la realtà era sempre un po', insomma, indietro. Differente da quello che vedevi o che volevano far vedere, ecco. Però sicuramente è uno stato molto, molto grande, con una popolazione grandissima e che deve gestire, penso, tanti problemi interni, quindi... È un continente, perché come dimensioni, diciamo, che insomma è quasi un continente e sicuramente con una popolazione che è un miliardo e quattrocento milioni, ora non so se sono anche di più, anche se hanno messo un limite, il governo ha messo un limite e non più di un figlio per famiglia, altrimenti si può immaginare che di questo passo veramente a un certo punto... Anche più di una macchina per famiglia non possono avere, perché... La Cina scoppierebbe, no? A proposito di macchine, che adesso mi solleciti, come trovi il traffico a Lucca quando torni ogni tanto? Come lo trovi? L'ho trovato, sinceramente, aumentato. No, no, meno male, mi conforto. Sai che combatto questa battaglia personale, continuando... Voglio convincere la gente, se qualcuno non fosse convinto, che per le dimensioni che a Lucca abbiamo un traffico, soprattutto sulla circonvallazione, anche perché poi è l'unica strada di collegamento con l'autostrada, perché qui si parla di questi assi viari, nord-sud, est-ovest, come sai, ma finora non si è fatto nulla e io direi comunque che, no? La palla, come si dice al balzo, quando c'è la possibilità di metterla a terra, andrebbe messa a terra, no? Come si fa nella palla a vole. Quindi bisognerebbe fare qualcosa che di questo passo diventa complicato. No, io credo, almeno per quel poco che vedo, che sicuramente qualcosa si stia facendo. Poi sono argomenti un po' spinosi che non voglio entrare nel merito, però penso che qualcosa si stia facendo che anche la viabilità la provino a migliorare, perché si vede che c'è l'intento. Magari forse anche noi cittadini dovremmo usare di più i mezzi pubblici, altri mezzi alternativi, per diminuire la quantità di veicoli, perché sicuramente attiriamo turismo e sicuramente le macchine aumentano anche per quello. Invece c'è purtroppo quella che è l'abitudine, perché noi alla fine siamo anche abitudinari. Quando ci siamo abituati a spostarci con le nostre macchinette, è difficile perdere questa vita, perché chiaramente la macchina è più comoda. Poi magari si fatica a trovare il parcheggio, però con la macchina gli orari te li stabilisci da te, col mezzo pubblico sei legato. Lo schermo, il sito dello schermo, stamani apre con la vicenda invece della scuola, c'è fermento nella scuola, manifestazione dei Cobas della scuola, vie superpresidi, e questi test invalsi, che poi un giorno qualcuno mi spiegherà cosa sono, quasi tre grammi di cocaina in auto, nei guai una 35enne, poi il capitano Salvini, il paradosso del garzone di macelleria padana, qui probabilmente si parla, sai che Salvini è venuto sabato per la campagna elettorale, prima a Massa e poi a Viareggio, ha avuto qualche contestazione, ne avrei sentito parlare. Queste erano le notizie principali che ci riguardavano. Senti, segui naturalmente, quest'anno eri in Turchia, segui le vicende comunque di quello che succede in Italia, immagino, della pallavola italiana, e c'è stata questa, nel calcio una volta c'era il modo di dire, clamorosa al Cibali, di tanti anni fa, negli anni 60, quando il Catani allora batte quella che era la squadra che all'epoca, insomma, come se ora, non so, la Juve avesse perso con la Lucchese o qualcosa del genere, clamoroso al Cibali, il Catani batte l'Inter all'epoca. Il Casal Maggiore che vince lo Scudetto nella pallavola femminile, è un po' clamoroso al Cibali, o no? È un po' clamoroso, sì, però bisogna veramente fare complimenti a queste ragazze, perché sono state la sorpresa del campionato, già per il percorso che hanno fatto, perché comunque avevano terminato la regular season seconde, comunque... Quindi le premesse c'erano già? C'erano, perché insomma, battendo squadre più titolate o che sembrava non fossero neanche alla loro portata, quindi già qualcosa stavano dimostrando. Infatti ho detto anche in un'altra intervista durante il playoff, ho detto ma non si può parlare tanto di sorpresa, perché durante il campionato alla fine, piano piano, magari una partenza un po' in sordina, però hanno fatto la loro ottima stagione. Se arrivi seconda alla fine della regola al season vuol dire che qualcosa c'è. E in più, ne parlavamo prima, sono state doppiamente brave, perché nella sfortuna di quest'anno Casal Maggiore giocava nel loro palazzetto, ci fu quella grossa nevicata e gli è crollato il palazzetto a causa del maltempo. Hanno dovuto giocare un po' a Monza, un po' a Cremona, un po' qui, un po' là. Quindi in mezzo a tante difficoltà, io da giocatrice penso che sia difficile quando non giochi più neanche nel tuo palazzetto di casa, ogni volta doverti spostare, quindi difficoltà logistiche, difficoltà di pubblico perché all'inizio non era il loro pubblico, poi alla fine hanno, come dire, si sono fatte amare giustamente non da tutti. Diciamo che c'è stata una giustizia divina che alla fine, se così la vogliamo definire, ha premiato questa squadra e questo è bello perché quando ci sono i Casal Maggiore nella palla a volo, ci sono, che ne dica, qualche anfitrione di dirigente del calcio italiano, i Carpi e i Frosinone che vengono in Serie A, anche se ha qualcuno che pure comanda nel calcio italiano, questo non sta bene, questa è una cosa vergognosa perché nello sport i meriti si acquisiscono sul campo, non per diritto divino in questo caso perché ti chiami tizio invece che caio. Ci dà speranza che nello sport l'impegno, il sacrificio, l'intelligenza, no? Premino ancora la passione, la passione, continua ancora qualcosa, no Nadia? Sicuramente. Sarebbe tutto scontato, sarebbe tutto troppo scontato. Sicuramente, ma infatti tutti alla fine del Scudetto sono arrivati a gara 5 e nessuno avrebbe scommesso penso un euro su Casal Maggiore, su gara 5, giocata in casa del Novara e la differenza poi alla fine quando sei a questi livelli, in quei momenti, veramente forse quel qualcosina, quella scintilla che c'è dentro un pochino di più, quando ti mi hai detto cosa ci metti sull'ultima palla, su quella palla che cade, con la rabbia che forse ha fatto la differenza per far vincere Casal Maggiore e peccato per Novara perché veramente è la quinta finale Scudetto che perde e veramente mi dispiace anche per loro, veramente. qui potrei citare un altro caso nello sport quando faccio tutte queste citazioni mi accorgo ormai quanto sono là con gli anni nel ciclismo che è un atto dei miei sport preferiti quando arrivavi c'era un ciclista si chiamava Belloni che correva era definito l'eterno secondo perché lui arrivava sempre ha anche vinto qualche volta però diciamo ha fatto tantissimi secondi posti però so può capitare nello sport purtroppo di arrivare magari in Novara però se è sempre lì prima o poi ce la farà velocemente i quotidiani quelli a tiratura nazionale poi dopo subito dopo la pausa andremo a fare un collegamento perché la Versilia in questi giorni come sa è in subbuglio per le vicende dell'hockey allora Renzi ora pensioni più libere pressing sull'Inps per una maggiore flessibilità sulle uscite Unione Europea sì sui rimborsi poi questa mattina si parla di tacchi c'è una donna c'è anche una bellissima donna ma il tacco è obbligatorio il caso stiletto Agita Khan dove in questi giorni tu conosci bene quindi sai di cosa parlo c'è il festival del cinema poi la Repubblica il calcio truccato patto segreto sulla tv partite vendute scommesse lo sapete 50 arresti l'ombra della mafia sulla Lega Pro ci sono diverse squadre coinvolte che rischiano anche pesanti penalizzazioni quando di mattina abbiamo dato la notizia prova buongiorno con noi devo dire la verità la prima cosa che ho voluto verificare che non ci fosse di mezzo Lucca e la Lucchese così è stato non avevamo dubbi noi però insomma il fatto che noi siamo estrani in questo caso che questa non ci sarebbe voluta davvero poi i nuovi stregoni questo poi me lo vado a leggere oggi appena trovo un minuto i nuovi stregoni del biotech che ci allungheranno la vita l'ha detto Berlusconi per primo che ormai spera di vivere fino a 130 anni noi gliela auguriamo e insomma ci si arriverà prima o poi poi guarda colpi di tacco lo ritroviamo anche qui Cannes scarpe basse vietate sul red carpet insorgono le vive forse non a tutte piace portare questo cos'è un 12 un 23 un 40 cos'è non lo so sarà un buon tacco 12 poi calcio truccato maxi retata niente quote Hollande si sfila lira di Renzi non avevamo dubbi che si sarebbero sfilati altri paesi per la vicenda dei migranti e poi Lecco sarà ricoverata è stata follia assolta la madre che ha ucciso le tre figliolette infine il tirreno di Viareggio giro di vite sulle spiagge le regole più severe si parla anche delle cave di marmo raddoppia la tassa sul marmo per chi fa affari con i detriti ed ancora Viareggio Dei ci pensiamo noi tre imprenditori raccolgono la sfida per l'evento con sconti omaggi ed infine taglio basso proprio quasi nel piedino della prima pagina Scudetto ok su pista gara 3 il forte De Marmi torna avanti battuto 3 a 0 il Cgc Viareggio sabato il primo match point rosso-blu come sapete sabato si gioca a Follonica dopo la pausa pubblicitaria ripartiremo proprio da qui dalla finale di Hockey su pista che ormai da una settimana tiene cuori agitati in Versilia 9.05 questa mattina buongiorno con noi la graditissima ospite è Nadia Centoni la nostra campionessa di volley con lei dobbiamo parlare ancora di tanti argomenti anche poi le voglio chiedere se ha imparato il turco in quest'anno perché si dice sempre ma che parlo il turco voglio capire se questo turco è così difficile siamo partiti dai tacchi a spillo di Can andiamo a finire al turco vabbè doppio Pedro Gil e Orlandi Forte dei Marmi 3 CCC Viareggio 0 è reso conto dei Forte dei Marmi Viareggio gara 3 abbiamo in collegamento telefonico il nostro massimo esperto di Hockey che anche ieri sera ha seguito la finale 3 di questa gara scudetto tra Forte dei Marmi e Viareggio Roy Lepore buongiorno Roy buongiorno a te un saluto a tutti ovviamente con una particolare la tua amica ospite Nadia Centoni che hai presente lì nel tuo studio a Viareggio piove e come ha piovuto per modo di dire ieri sera possiamo dire sul centro i giovani calciatori un risultato pesante forse per quanto riguarda il risultato 3 a 0 maturato l'ultimo gol di Orlandi nei secondi finali della partita partita che ha visto in equilibrio la formazione di Alessandro Bertrucci per la quasi totalità nella quale ha fallito alcune opportunità per riaprire la gara un tiro fortuito da metà pista di Motarana dopo appena due minuti dalla via ha permesso a Gil con una deviazione fortuita di trovare il gol e spiazzare il grande portiere che è Leonardo Barozzi e lì chiaramente la partita si è messa in salita il centro però a testa bassa ancora una volta con i suoi giovani Mugna Dan e tutto il gruppo hanno tenuto testa al Forte dei Marmi che rispetto a gara 2 ha trovato gira sicuramente in serata di Vena non a caso è definito il Messi dell'Occhi il giocatore più forte e in questi casi si sa che può fare il bello e cattivo tempo nonostante questo dicevo il centro avrebbe avuto la possibilità alla fine del primo tempo di poter terminare in parità ma Mugna è stato sfortunato ed anche in preciso nella conclusione come pure il centro è stato fortunato perché a pochissimo della conclusione del primo tempo Cancel ha sbagliato una punizione di prima ma qui dobbiamo riconoscere la bravura di Leonardo Barossi nella ripresa ci sono stati rotazioni per mantenere sempre i quintetti in pista con la freschezza fisica la partita molto veloce bella ancora una volta queste due squadre sembrano che amano far divertire il pubblico anche ieri sera ricordiamo solo di Marco Fortemarmina per il divieto di trasferta dei tifosi bianconeri un paraforte che ha sicuramente fatto la sua parte dagli spalti c'era anche addirittura un ospite inatteso illustre Giuseppe Sannino ex allenatore di Siena Palermo e Catania che ha una casa a Forte dei Marmi con questa grande pubblicità che c'è stata intorno a questo derby incuriosito e voluto venire a vedere e si è divertito perché chiaramente l'occhio è spettacolare a questi livelli diverte vederlo dal vivo dicevo nel secondo tempo il Centro Giovani Cacciatori quando con Mirco Bertolucci aveva avuto la possibilità con la punizione di prima di riportarsi in parità l'ha fallita e è arrivato il gol molto bello da metà pista di Pedro Gil e ha portato il Forte dei Marmi sul 2-0 Mugna poi ha ancora la possibilità di riaprire la partita ma sicuramente non era la serata del Centro Giovani Cacciatori perché spreca la possibilità su punizioni di prima di andare sul 2-1 ancora Mugna si trova a tu per tu con Stagi super come il suo amico rivale Leonardo Barozzi portiere del Forte dei Marmi e poi come detto ancora una pallina vagante sulla linea di porta poteva riaprire la gara per il Centro Giovani Cacciatori a 7 secondi dalla fine la punizione di prima dell'ex Alberto Orlandi punisce sul risultato un po' troppo severo 3-0 il risultato finale adesso gara 4 a Follonica almeno in questo momento in cui siamo in diretta c'è un grosso punto interrogativo perché non si sa se la partita si giocherà a porte chiuse se ci sarà il divieto di trasferta per i tifosi del Forte dei Marmi visto che i divieti fino a questo momento erano per le tifoserie ospiti e il campo neutro si gioca perché la pista di Viareggio è squalificata ci sono ancora da capire tante cose c'è un rimpallo di responsabilità e di decisioni tra le questure di Grosseto competente territoriale prefettura di Grosseto con prefettura e questura di Lucca quindi nelle prossime ore si spera almeno lo sperano anche le società e anche i tifosi stessi per organizzarsi visto che sabato è un giorno feriale la trasferta la vogliono fare con dei pulma con mezzi propri però ad oggi se non si sa come si può vendere a chi i biglietti se è possibile farlo e quindi c'è molta incertezza su questo fatto una cosa da dire che c'è anche il presidente della federazione Occhi su pista Aracu che oggi si è messo in movimento per cercare di non sciupare uno spettacolo una finale scudetto farla a porte chiuse senza pubblico sugli spazi anche con le immagini ricordiamo sarà in diretta come ieri sera su Rai Sport 2 anche sabato sera mostrare al pubblico televisivo uno spettacolo così con le tribune scarme senza un tifo in sottofondo sarebbe davvero un peccato però questi ci sono i frutti di certi episodi che sono successi a monte ci sono certe regole da rispettare c'è anche l'organo del Vimitare l'osservatorio del Viminare a Roma che è stato interpellato ieri e che deciderà sul da farsi una cosa è certa che lo sport dovrebbe prevalere su tutti invece a volte ci sono anche delle situazioni come in gara 1 che lo hanno condizionato a tal proposito il centro è ancora in silenzio stampo ma il presidente Alessandro Paragis è fatto sfuggire diciamo una dichiarazione abbastanza pesante e forte dicendo e facendo quasi un appello di autodenunciarsi assumendosi le responsabilità a colui che ha lanciato la bottiglia all'interno dello spogliatore del Forte dei Marmi in gara 1 che ha portato i tre feriti lievi per fortuna la squalifica di tre giornate il campo neutro di sabato sera 2.500 euro di multa per questo gesto ci sono poi denunce contro i gnoti sia da parte del centro giovane che del Forte stesso contro praticamente gli autori di questo gesto e poi a chiudere se diamo fastidio a qualcuno togliamo anche il disturbo dice appunto speriamo che non sia così ti devo interrompere se state esauriente ti ringrazio per l'intervento e naturalmente ci terrà informato sulla partita di sabato grazie benissimo grazie a voi a voi la via buongiorno buongiorno a Roel Eppure che ci ha voluto davvero raccontare no si è rimasta impressionata a vedere il pubblico che segue queste partite sono rimasta positivamente impressionata sì sì no no in quel senso lì certamente perché purtroppo mi ando a fare una puntina di polemica concedimelo perché come sempre l'hockey su pista è comunque considerato uno sport minore e scusami ma secondo me un evento del genere con tanto pubblico con tanto seguito un derby perché comunque è un derby in Versilia quello che vuoi ma secondo me è poco mediatizzato e qui si torna sempre su ti è mai capitato di giocare cioè di fronte a quanta gente magari anche a più di duemila persone immagino eh guarda fresco fresco il mondiale di quest'anno a Milano c'era 15-16 mila persone a Milano quindi insomma ce n'era abbastanza e ti fanno tutte per noi quindi che effetto ti fa cioè il pubblico che poi vi seguiva in un modo fantastico no perché lì veramente avete entusiasmato la gente avete giocato delle partite che effetto mi fa avete fatto avete fatto sognare veramente ti fa pagare la pelle d'oca anche a noi che si gioca perché quando entri in campo c'è tutto quel pubblico e poi come è successo quest'estate insomma recentemente a novembre a settembre a ottobre tutto quel pubblico è per noi è per l'Italia è un pubblico italiano insomma è veramente in quel caso dici la settima giocatrice la spinta in più è un elemento importante e lo senti veramente tanto veramente ecco tu sei tornata in nazionale perché abbiamo detto delle Olimpiadi però sei stata poi dopo dalle Olimpiadi di Pechino al 2000 sei stata diversi anni in modo mi sento di dirlo tranquillamente abbastanza inspiegabile ma sono quelle cose che purtroppo possono capitare fuori dalla nazionale diversi anni perché dopo l'Olimpiadi del 2008 con Barbolini che allenava non sono più stata chiamata e vabbè ogni allenatore fa le sue scelte non potevo cioè non sono non è questo il caso di sindacare o polemizzare te l'ha spiegato poi Barbolini visto che poi vi siete clamati le cose sono curiose lui non ti convocava al nazionale poi vi siete ritrovati a Galatasaray quest'anno che era il mio allenatore a quel punto te l'ha spiegato perché non abbiamo mai toccato l'argomento però è stata un'annata molto positiva in cui più di una volta mi hai detto senza affrontare rettamente l'argomento mi hai detto guarda delle volte anche gli allenatori facciamo delle scelte che col seno di poi magari sbagliamo col seno di poi anche noi non si sa magari non sai perché o facevi in quel momento altre valutazioni insomma ma peccato perché ti ha privato insomma di anni in cui potevi dare ancora tanto no a questa a questa nazionale posso dire che l'allenatore della vita per te forse però è bonita è quello che sicuramente ha dato un imprint molto importante alla mia carriera perché fu quello che io lo ringrazio sempre perché fu colui che mi spostò di ruolo perché all'inizio prima parlavamo di ruoli in campo sono una schiacciatrice però sono un opposto quindi più specializzata in una certa zona del campo lui ti spostò di ruolo ti fece diventare opposta perché quando tu eri partita come schiacciatrice in gergo tecnico diciamo di zona 4 e con lui in gergo tecnico sono diventata una schiacciatrice di zona 2 quindi si chiama opposto quindi ancora di più responsabilità in attacco ancora più attacco di prima linea di seconda linea quindi proprio un attaccante pura diciamo mi ha resa e è stato quello che poi ha fatto fra virgolette mia fortuna la mia carriera perché questo cambiamento di ruolo mi ha portato a giovamento sicuramente perché in quel caso io adesso con il ruolo che ho noi si dice tocco meno pallone di seconda linea di ricezione di difesa e penso solo ad attaccare e questo scarico diciamo dalla seconda linea mi ha aiutato molto questi sono argomenti un pochino più tecnici parliamo di cose tecniche invece che fare diciamo il centrocampista come se ti avesse messo un po' più avanti nel calcio attacco basta aspetta solo la palla invece che dover diciamo rientrare Darman Forte anche in fase parlando di calcio perché magari ci capiscono meglio ok dover rientrare lei sta là negli ultimi 20 metri aspetta il suggerimento giusto e poi e via e poi la schiacciata la schiacciata con l'urlo senti parlavamo prima dell'intervento di Roelepore dei tacchi a spillo e di Cannes sei stata sette anni a Cannes immagino al festival solo come squala del posto in qualche modo eravate coinvolte ogni anno sono andata quindi sì ma non me lo stai dicendo non me lo stai dicendo ogni anno non sei appassionata di cinema mi sembra di capire sono appassionata cioè sì mi piace andare al cinema mi piacciono mi emoziono guardare film però dopo l'esperienza del festival di Cannes lo hai con me è perché è diverso non vai solo al cinema e ti metti lì tranquillo lì c'è il tappeto rosso che è una cosa abbastanza importante la senti la polemica che c'è dei tacchi a spillo la capisco perché lì veramente anche voi dovevate andare con i tacchi a spillo spero di no insomma sì dovevamo essere vestite bene abito più o meno lungo insomma mi sembra eravate proprio come delle attrici anche voi no? sì eh sì sì era il nostro momento da diva il turco l'ha imparato qualche parola qualche parola è molto difficile quindi non è i nostri avi che ci hanno lasciato i cosiddetti proverbi non è che si alzavano la mattina facevano i proverbi così tanto per farli è veramente è molto difficile è una struttura grammaticale è molto difficile non assomiglia a nessun'altra lingua mentre magari noi possiamo fare un parallelo col francese perché siamo lingue neolatine lo spagnolo sono lingue per noi insomma abbastanza diciamo semplici ecco il turco no il turco no non assomiglia a nessuna lingua quindi là come ti facevi come ti fai capire beh sicuramente l'inglese e anche in francese perché la non so perché ma tanti parlano il francese e quindi ah il francese più che l'inglese in Turchia sì abbastanza ma da tutte le parti se vai in Germania parlano tutti l'inglese oltre che al tedesco parlano tutti l'inglese in Francia non so se parlano un'altra lingua francese sono molto nazionalisti parlano solo il francese su questo guarda non mi dispiacciono neanche su questo francese però noi italiani ci facciamo intendere ovunque io ho avuto problemi sì vabbè ma quello noi ci facciamo con la lingua dei gesti ci facciamo infatti soprattutto i meridionali più che noi ma insomma anche noi con la lingua dei gesti sì vabbè l'italiano va bene ovunque di solito noi adesso forse le nuove generazioni è diverso ma diciamo la mia generazione così seconda lingua poco o nulla anche chi mentre in altri paesi no no ma anche in Turchia è così va bene dai poi voglio ora nell'ultima parte andiamo in pubblicità nell'ultima parte parliamo vediamo i giornali sportivi così ti coinvolgo cioè ho ritagliato qui anche una notizia che riguarda proprio la pallavola e la nazionale a tra poco per l'ultimo spazio di buongiorno con noi 20 cara Nadia Centoni siamo al Tebrec Tebrec è sempre un momento nella pallavola è sempre un momento di straordinaria emozione l'emozione è più importante se arrivi al Tebrec ti giochi tutto quando poi perdi magari 17-15 mamma mia non ne parliamo la più bella vittoria al Tebrec è che non parliamo delle sconfitte la più bella vittoria al Tebrec è sempre contro una squadra turca stavolta vinta abbiamo vinto di più 21-19 al Tebrec battaglia 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 non finiva mai non finiva mai e ci siamo qualificate per la Final Four dicembre oggi per fortuna le partite di pallavola secondo me fu all'epoca una decisione giusta col fatto che comunque fai il punto anche se non sei in battuta a volte le partite non finivano c'erano partite che potevano durare dei giorni veramente diventavano vabbè andiamo a vedere la prima pagina della gazzetta dello sport perché logicamente lo sai tu hai detto bene ma come c'è una finale così di ok che con tanta gente alla fine si parla solo di casa guarda se c'è prima pagina della gazzetta no è all'interno è all'interno una coppa che conta stasera alle 20.45 Juve Lazio finale di Coppa Italia i vincitori dello Scudetto cercano il Doblete intanto Doblete poi potrebbe esserci il Triplete e la decima Coppa Italia Bianco Celesti per la settima Pirlo e Close calcio scommesse c'è l'Andrangheta inchiesta a Catanzaro 50 arresti nuova bufera tocca a Lega Pro e a Direttanti dobbiamo andare un po' di corsa perché abbiamo poco tempo poi di spalla incredibile giro d'Italia Port Ricci Port uno dei grandi favoriti aiutato dall'amico rivale penalizzato i due minuti aiutato in che senso che gli ha passato la bicicletta non poteva farlo Clark non poteva prestargli la ruota e la ruota gli ha prestato a Forlì successo di Boehm quindi Port con i favoriti in un colpo solo senza che lo abbiano staccato né nulla perde due minuti poi Club Italia in A1 ecco si parla di pallavolo Nadia all'interno della gazzetta Ponte sul futuro guardando a Rio ufficializzata la squadra che sarà guidata dal commissario tecnico Bonitta sarà una vetrina per i nuovi talenti ecco qua la foto c'è questa foto la vediamo allora è una novità perché il Club Italia giocava finora in A2 è una bella vetrina come lui dice ma è anche una bella opportunità per queste ragazze tu hai giocato nel Club Italia mi pare no? sì qualche anno fa sì 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 diverte anni fa perché infatti sono ragazzi molto giovani 98-99 ecco la ricordiamo gli anni no 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 vabbè dai come dicevo è una bella opportunità per loro per giocare il massimo campionato la massima serie e metterci subito come dire in discussione magari ragazze che non avrebbero tanto spazio nei grandi club magari potrebbero fare panchina magari potrebbero giocare sì no invece in questa maniera sicuramente giocheranno certo certo e nel preolimpico è una cosa importante è una bella iniziativa questo signore invece che vedi lo diceva prima anche Roel Eppure nel suo collegamento è considerato il Messi dell'occhio su pista si chiama Pedro Gil gioca nel Forte dei Marmi Pedro Gil la legge del più forte una doppietta del campione spagnolo e un gol nel finale di Orlandi regalano il primo match point rosso-gru e quindi sabato si era a Follonica vedremo quello che succederà soprattutto se ci sarà la possibilità che ci sono anche i tifosi che sarebbe brutto una finale che può dare lo scudetto senza pubblico speriamo che ci sia di giocare a porte chiuse non è mai capitato credo di no purtroppo sì dove in Turchia in Turchia perché anche in Turchia i tifosi sono abbastanza caldi non sono caldi siete trovate mi raccontavi anche in situazioni un po' per la prima volta perché non mi era mai capitato perché la palla a voi è uno sport si sa il pubblico un ottimo pubblico situazioni anche un po' un po' pesanti vabbè QS Sport vediamo rapidamente Coppa Aperitivo Annaport vediamo ha preso due minuti che sono tanti però adesso magari si scatena questo questo australiano tasmaniano e magari Benitez Libera Ancelotti e Galliani pensa in grande ed infine vi faccio vedere la lucchese Galli tra la grana luci che una volta c'era luci a San Siro ormai c'è luci al Portelisa questa azienda ha staccato la luce prima all'acquedotto e poi al Portelisa quindi ora i dirigenti soprattutto il presidente ma anche il direttore generale della Lucchese devono risolvere questa grana e poi anche la scelta dell'allenatore che probabilmente non sarà più Nanu Galderisi intanto sulla vicenda del calcio scommesso in Lega Pro per la lucchese forse sarà possibile visto che lì c'è chi rischia delle penalizzazioni addirittura qualcosa di più la lucchese potrebbe rientrare guadagnare una posizione o due rientrare nella team cup di questa estate Nadia neanche a dirlo che insomma il tuo sogno nel cassetto a questo punto sarebbe la terza Olimpiade però la strada è lunga è lunga perché prima di tutto c'è da qualificarsi spero che vada tutto bene e magari anche alla prima occasione prossimo appuntamento a settembre gli europei Belgio e Olanda Belgio e Olanda i suoi compagni dovesse andare male lì tocchiamo ferro c'è ripesciaggia un ripescaggio a maggio in base a ranking insomma il proverbio dice non c'è due senza tre speriamo che per Nadia Centoni davvero ci sia la terza Olimpiade dopo Atene e Pechino quella di Rio Brasile è un paese ancora diverso dalla Grecia dalla Cina ancora diverso magari ne riparleremo va bene perché noi ti rivolgiamo qui magari per il prossimo anno invece a livello di club ancora da decidere ancora da decidere come dicevo mercato aperto adesso è periodo di di offerte proposte in teoria dovrei rimanere a Galatasaray però il tuo orientamento comunque non fosse Galatasaray comunque rimanere sempre all'estero perché il campionato turco sinceramente è un campionato di altissimo livello e vorrei provare a rimanere là ancora bene Nadia è stato davvero un piacere averti con noi qui a Buongiorno con noi a Noi TV speriamo che insomma dopo estate l'autunno la primavera siano foriere e l'estate fra un anno siano foriere per te di grandi soddisfazioni continueremo a seguirti con particolare affetto e naturalmente Buongiorno con noi torna domattina alle 8 e 30 in studio ci sarà il collega Egidio Conca grazie di nuovo Nadia e bocca al lupo grazie anche a Matteo Bedini tra poco noi torniamo con la prima edizione con la prima edizione del TG Noi Buongiorno grazie a tutti